Grazie, buongiorno a tutti. Un'altra delle problematiche che hanno le nostre imprese alla competizione internazionale è quella legata appunto alla lotta alla contraffazione, alla lotta alla globalizzazione. Una lotta che le nostre imprese devono affrontare da sole senza nessun tipo di aiuto all'anti-dumping, senza nessun tipo di aiuto a difesa della propria capacità e della propria qualità delle produzioni. Quindi noi chiediamo una difesa dalle nostre produzioni attraverso la posizione anche temporanea di Dazi affinché le nostre imprese non debbano subire una concorrenza sleale da tutte quelle parti asiatiche del mondo che invadono i nostri negozi, la nostra società di prodotti che oltre a essere copiati, oltre a essere a basso costo sono pure delle schifezze nocive che danno e arrecano del danno fisico alle persone. Noi abbiamo prodotto una legge in Parlamento, la scorsa legislatura, legata all'etechettatura dei prodotti in Campo Tessi, il calzaturiero e della pelletteria. Il problema è che il Governo poi non l'ha difesa in sede europea perché la vera battaglia per la difesa dei nostri confini è l'Europa. Quindi un invito ai tre governatori a costruire questa macro regione per andare a trattare direttamente in Europa per la difesa dei nostri confini, delle nostre imprese, delle nostre produzioni attraverso la posizione di Dazi con la certificazione della filiera, l'etichettatura dei prodotti. Il nostro sourfair padano è quello che fa grande le imprese perché non ci sono solo grandi imprenditori, ma i grandi imprenditori lo sono perché ci sono grandi maestranze che sono capaci a produrre dei bellissimi prodotti. Ecco è questo che noi dobbiamo andare a difendere in Europa. Grazie. Bene, Simone.